Ciao amici, benvenuti nel mio canale. Sono qui con un video fantastico. Oggi condividerò con voi un meraviglioso video con Oje e Gokberk de Mirci. Cari spettatori, prima di passare al mio video, non dimenticate di iscrivervi al mio canale, di mettere mi piace e di condividere il mio video. La coppia Gokberk de Mirci e Oji Avuz è rimasta a lungo all'ordine del giorno come due degli attori più popolari e conosciuti della televisione turca. L'amore della coppia è diventata una delle storie romantiche del mondo televisivo, ma i recenti sviluppi hanno rivelato un'importante decisione riguardante il futuro della coppia. Oji Agiz e Gokberk de Mirci sono diventati famosi dopo aver recitato nella serie tv Yemen e dopo questo progetto hanno iniziato una relazione romantica. Tuttavia, ultimamente, sono emerse diverse speculazioni e notizie sulla relazione della coppia. Soprattutto l'idea di Gokberk de Mirci di trasferirsi in Spagna ha creato un grosso punto interrogativo sul futuro della coppia. Tuttavia, i recenti sviluppi rivelano che Gokberk de Mirci ha rinunciato all'idea di trasferirsi in Spagna e ha preso questa decisione per conto di Oji Agiz. Il punto in cui la coppia ha annunciato di voler rafforzare ulteriormente il loro impegno reciproco e il loro rapporto. Il punto in cui l'abbandono dell'idea della Spagna da parte di Gokberk de Mirci ha rivelato ancora una volta quanto fosse forte il rapporto tra i due. Oji Agiz ne è stato molto soddisfatto. Gokberk de Mirci ha deciso di essere felice che la coppia possa trascorrere più tempo insieme, affermando che è così. Questi sviluppi hanno creato un grande impatto nel mondo delle riviste turche e sono stati accolti con grande gioia dai fan della coppia. Vorrei ringraziare tutti voi per aver guardato il mio video.